Patina è una cera decorativa da interni a base acquosa per il trattamento di finiture decorative minerali a base calce. Applicare patina su finiture decorative minerali a base calce. Le superfici devono risultare compatte, prive di incoerenze, asciutte. Stendere uno strato sottile di patina utilizzando un panno. In presenza di superfici molto planari è possibile utilizzare una spatola in acciaio inox. Quando la superficie decorata con patina risulta asciutta al tatto procedere alla lucidatura con un panno. Le superfici possono essere lucidate sia manualmente sia con l'ausilio di una ledigatrice roto-orbitale munita di apposita cuffia in lana. Grazie